È venuto a mancare nella notte Claudio Palazzolo, stimato imprenditore nissano di origini siracusane, che operava nel campo dell'abbigliamento e degli accessori moda. Da sempre impegnato nel sociale e nello sport, la pallavolo maschile con lui ha vissuto le imprese e le vittorie dei campionati di Serie D e C, della Lucnista Volley, ma anche il successo della Coppa Sicilia. La notizia si è diffusa velocemente sui social, moltissimi messaggi di cordoglio, stime e affetto, tra cui le parole di Vincenzo Doca, presidente del Centro Commerciale Naturale, Caltanissetta, dice Doca, piange uno dei suoi figli migliori. Claudio Palazzolo è stato un cittadino esemplare, un imprenditore di riferimento in Sicilia e in Italia, uomo imprenditore lungimirante, persona a modo e garbata. Abbiamo perso un cittadino, un amico e un modello di riferimento.